Bentornati, allora come vi anticipavo, Maria Luisa Coccozza ci guida nel meraviglioso, fantastico mondo degli animali. Torna anche quest'anno la stagione della prevenzione, un'occasione per i proprietari di cani e gatti di far visitare gratuitamente per tutto il mese il proprio pet. Anche quest'anno abbiamo deciso di aderire alla stagione della prevenzione, voluta da Hills Pet Nutrition e dell'Associazione Nazionale Medici Veterinari. Abbiamo deciso di partecipare perché per noi veterinari la prevenzione è di fondamentale importanza per garantire il benessere animale e per la tutela della salute pubblica. La visita serve per valutare lo stato di benessere dell'animale. In contemporanea è partito un tour itinerante, il benessere nella ciotola tour. Proprietari, i loro animali e i veterinari Hills si daranno appuntamento presso uno dei parchi delle principali città italiane per fare il punto sulla salute del proprio animale. Per conoscere il veterinario più vicino alla propria abitazione che ha aderito all'iniziativa e per le tappe e le date del tour, occorre collegarsi al sito www.stagionedellaprevenzione.it